Papone, tu ti sei messo a fare un secondo lavoro per pagarmi gli studi? Lo facciamo tutti, Chris. Io e Meg lavoriamo di notte. Voglio quella a destra. Beh, come prima, Meg. Ci vediamo tra un'oretta. E io vado in giro a seguire i grassoni suonando la tuba. Dai, smettila. Falla finita. Guarda che il mio è un problema ormonare. Fanno 60 dollari.